Durante le giornate di Pasqua e Pasquetta, i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal tenente Malgeri e Mennato, hanno effettuato un servizio coordinato sul territorio teso a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti e le violazioni più gravi del codice della strada. Il servizio ha visto coinvolto più di 30 uomini dell'arma unitamente al nucleo cinofidi dei carabinieri di Sarno, risultato fondamentale per il contrasto al traffico della droga. Nel corso del servizio è stato denunciato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente un uomo classe 90, originario di Avellino, trovato in possesso di circa 9 grammi di hashish, sempre riferite in stato di libertà altre 7 persone per chi ha la guida in evidente stato di alterazione psicofisica correlata all'assunzione di bevande alcoliche, mentre si è proceduto al ritiro di altrettante patenti di guida. I controlli sono stati estesi a molti autobus che con partenza da Sapri conducevano i ragazzi alle serate organizzate nelle diverse discoteche nella zona di Pisciotta, oltre 15 giovani segnalati alla prefettura di Salerno perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Proprio a bordo di uno di questi autobus, i carabinieri, grazie al pastore tedesco Rex del nucleo cinofili, hanno trovato diverse dosi di hashish, sostanza sequestrata ed inviata per le dovute analisi di rito. Positivo dunque il bilancio che ha consentito di controllare oltre 300 veicoli.